Ciao a tutti, per quei pochi che ancora non dovessero conoscermi sono Giuseppe Aletti, insomma sono un poeta che ha fondato 26 anni fa l'omonima casa editrice, la Letti Editore, l'ambito della poesia, insomma abbiamo fatto tantissime cose in questi anni a partire dalla formulazione del primo paese della poesia che c'è in Italia, con le poesie che si leggono proprio sulle mura del centro storico di Rocca Imperiale, insomma un borgo che abbiamo riqualificato utilizzando i versi come arredo urbano. Hanno aderito a questo progetto numerosissimi poeti, artisti, intellettuali e autori di fama internazionale, a partire da Lawrence Ferlinghetti in fondatore della Beat Generation americana, a Mogol con il quale ho condiviso numerose laboratori di scrittura, insomma festival, premi letterali e quant'altro, che ha donato al circuito del paese della poesia probabilmente il suo testo più poetico che è Emozioni, a Salvatore Quasimodo tramite Alessandro, il mio caro amico Alessandro che è il figlio del premio Nobel. Sabato, se tu scrivi poesia, ti chiedi che valore hanno i tuoi testi, se effettivamente necessiti di migliorare da un punto di vista formale, se non vuoi scrivere un po' come scrivono tutti, insomma stare in una piazza gremita dove sei un pochettino un puntino indistinto e irriconoscibile che non vuoi scrivere un po' a stampino come fanno tutti, sabato, sabato 23 di maggio, iniziamo un nuovo percorso, considerate che negli ultimi tre anni oltre duemila autori hanno frequentato, i laboratori, le masterclass che ho organizzato e anche diretto, con cui ovviamente ho portato avanti un discorso di collaborazione con numerosi artisti che sono intervenuti, diciamo così, in questi due anni da Mogol stesso, Alessandro Quasimodo, il caro amico Alessandro, così come Francesco Gazea, Fezzai Dare, il candidato al premio Nobel, a Mariela Nava, a Alfredo Rapetti-Mogole, ma a tanti tanti altri, da Tom Magraze, il più importante poeta giorgiano vivente, che ne so, Franco Arminio, Davide Rondoni e tanti altri, comunque non potendo in questo momento incontrarci, come facciamo di solito, noi mediamente organizziamo 12-14 fine settimana dedicati alla formazione, alla scrittura poetica, alcune volte con delle masterclass dove andiamo ad affinare un po' le conoscenze che gli autori devono avere sull'utilizzo della scritta parola e del verso, altre volte con dei laboratori, dove analizziamo insieme, con un numero molto ristretto di autori, per due giorni i loro testi, andando ad evidenziare i punti di forza, i punti di debolezza e proponendo per ognuno di loro anche percorsi e approfondimenti. Sabato, 23 maggio, con un grande poeta, amico, regista, attore, insomma veramente un artista a 360 gradi, Osimo D'Amato Damiano, che è uscito poche settimane fa, insomma per i tipi della Feltanella Editore, con Eride Luca, un grandissimo scrittore, con un graphic novel che è l'Ora X con Cosimo, insomma con il quale ormai da alcuni anni portiamo avanti diverse iniziative nell'ambito artistico, daremo vita a questo primo incontro, a questa prima masterclass online sulla scrittura poetica e sarà suddiviso in tre momenti differenti. Nella parte iniziale andiamo a proiettare uno stralcio del film che lui ha diretto su Alda Melini, una donna sul palcoscenico che è stata anche un'opera anche presentata al Festival di Venezia. La cosa particolare, ovviamente ho già visto il film, l'ho anche ospitato con questo lungometraggio al Festival Il Federiciano, il più importante Festival di Poesia che noi organizziamo in Italia. Praticamente la cosa particolare è che non è un film che parla di Alda Melini, ma è Alda Melini in prima persona insomma che parla di se stessa, di tutta la sua vicenda umana e poetica. Poi Cosimo farà un laboratorio dove parlerà della donna, della figura della donna nel mondo della poesia, partendo diciamo così dalle poetesse italiane anche al mondo internazionale, insomma un viaggio di diversi secoli fino ad arrivare ai nostri giorni. Per quello che mi riguarda invece farò una lezione che si baserà totalmente su quello che è l'utilizzo della scritta parola e del diverso. Se scrivi poesie insomma e non sai a che punto sei del tuo percorso, se scrivi poesie e magari sei uno di quelli che dice, non so, ma piacciono tanto ai miei parenti, ai miei amici, però se scrivi poesie e pensi diciamo così ecco di essere bravissimo, però c'è il rischio che magari poi la gente legge queste poesie e ti ride alle spalle, insomma ecco per cui se vuoi avere una maggiore consapevolezza dell'utilizzo della parola, degli errori, dei cliché, dei luoghi comuni che purtroppo moltissimi autori commettono, segui, iscriviti diciamo che si ha questa masterclass per iniziare questo percorso, poiché come dico sempre se uno vuole fare l'attore va a una scuola di recitazione, se uno fa il calciatore va a una scuola di calcio, se uno vuole ovviamente occuparsi di poesia è giusto che dedichi una parte della sua formazione, una parte del suo tempo e anche delle sue risorse alla formazione, perché la scrittura ovviamente ha delle regole che vanno osservate, poi nel momento in cui si conoscono all'interno di quelle regole ogni autore libro di muoversi nel modo più opportuno, insomma è come l'acqua, all'inizio se non ci si propone il problema del come comunicare con i versi e diventa un po' come l'acqua che fuoriesce e va un po' ovunque, schizza ovunque senza una forma ben definita anche se poi l'autore è convinto di aver scritto qualcosa di estremamente efficace e invece scoprire tutte quelle norme, tutti quei trucchi anche che ci stanno, diciamo che sia la base per andare proprio praticamente a vedere se, proprio ad analizzare il testo per vedere se effettivamente ha degli errori formali, sia anche come dicevo prima dei luoghi comuni, dei cliché o comunque delle parti che vanno modificate e migliorate, è come avere poi un solco, all'interno di quel solco, che poi è l'ambito un po' più professionale della scrittura, all'interno di quel solco ognuno è libero di muoversi in maniera indipendente autonoma, però bisogna stare all'interno di quel solco, altrimenti saremo quelli che magari hanno tanti like, probabilmente ogni tanto su una pagina Facebook degli amici e i parenti come diciamo prima, però poi se mandate un testo in mano a un professionista, a un critico letterario, purtroppo lo prende e lo cestina miseramente. Per cui dicevo il 23 di maggio alle ore 21 faremo questa masterclass, durerà più o meno tre ore, iscrivetevi, adesso in questo video metterò il link e niente, vi aspetto per questo percorso da fare anche online, visto che in questo momento non è possibile farlo di persona. Al termine dell'incontro comunque daremo il microfono libero, per cui ai partecipanti daremo la possibilità di interagire, di fare delle domande, perché ci sono ovviamente, c'è la possibilità attraverso queste modalità di stare insieme online, di potervi comunque far intervenire e fare delle domande proponendo le vostre problematiche o in rapporto alle tematiche che si evidenziano con la lezione o eventualmente per dubbi che vi portate dietro già da prima e che in qualche modo avete il bisogno di affrontare. Iniziamo, iniziamo ecco con questa, no, quella prima accademia di scrittura poetica a formazione diretta di Giuseppe Aletti, insomma è che è già iniziata come attività a novembre dello scorso anno e adesso partiamo con questa serie di incontri online e il primo appunto è sabato 23 di maggio alle ore 21. Vi aspetto iscrizioni a numero chiuso, per cui affrettatevi che rischiate di non trovare posto. Ciao ciao!